Amici di Youtube, un saluto d'Alfredo Giuliano. Adesso è stato scalpore il fatto che Benedetto XVI rinunciasse ad intervenire all'indito che gli era stato fatto dall'Università Romana della Sapienza per l'inizio dell'anno accademico. Ovviamente c'era stata una contestazione già preparata che avrebbe dovuto il Santo Padre esordirsi. Certamente questo è un grande teologo a cui non gli si può rimproverare molto, visto che è stato sempre sulla breccia di un'ortodossia che non ha nulla a che vedere con il fondamentalismo islamico o con l'ortodossia islamica o pan-islamica. Questo è un Papa che, prima di tutto è un teologo, allo stesso tempo ha restituito al soglio di Pietro anche una figura politica. Non si è certamente accattivato le simpatie degli italiani per ciò che concerne i dico, per ciò che concerne la situazione della famiglia o una famiglia che riguarda ovviamente il desiderio dei gay o di altre situazioni che in questo momento vorrebbero trovare legittimità. E' una casa nel mondo cattolico, una casa ricettiva, una casa che capisse i problemi della famiglia o di nuovi soggetti che vogliono stare insieme, che intendo naturalmente mettere su famiglia una famiglia che ovviamente venga riconosciuta da chi? Quindi autorevolmente da quel referente diretto, io sono cattolico e chiedo ovviamente alla mia Chiesa, alla mia fede, che mi riconosca anche dei diritti che in questo momento si avvicinano a diventare costituzionali, ma che sono reietti, sono addirittura del tutto antipatici, scartati, antietici, antireligiosi, controtendenza rispetto a quello che è il volere, quello che in fondo è anche l'apparato organizzativo, il modo di capire, di intendere della Chiesa cattolica. Una Chiesa non al passo con i tempi, una Chiesa che fin dai tempi, ma molto prima di Galileo Galilei, ha sempre rinunciato ad approvare quelli che erano i dettami della scienza, le scoperte, ma anche se vogliamo il fatto che in Africa vi sia un problema serissimo e gravissimo, come quello dell'AIDS, quindi del virus dell'HIV che sta seminando la morte, che naturalmente contagia milioni e milioni di cittadini africani. Di fronte a questa situazione esplosiva la Chiesa si nega perfino un profilattico, un contraccettivo. Quindi i problemi per contestare un Papa del tutto grande dal punto di vista della figura rappresentativa di una Chiesa cattolica che si affaccia in questo nuovo secolo. Ma Benedetto XVI fino a questo momento non ha dimostrato ovviamente di gradire alcuni cambiamenti, alcuni mutamenti ovviamente dal suo punto di vista della Chiesa cattolica che attanagliano la società e che chiedono risposte soprattutto dall'apparato religioso, a cui ovviamente questi referenti che vogliono cambiare famiglia o che propongono un aspetto del diritto della famiglia nuovo, ovviamente tutto questo in questo momento cade, non c'è. Ovviamente i giovani sono i primi a risentirsi nei confronti della Chiesa, ma era giusto far sì che un Papa autorevole, quasi di fresca nomina, venisse di fatto sconsigliato, venisse di fatto scoraggiato dall'intervenire in una grande università, dalla grande tradizione e se vogliamo anche dalla grande cultura che riflette in fondo anche l'università della Sapienza, una facciata della nostra cultura nazionale, se non tutta. Ma evidentemente il Papa è stato sconsigliato dal suo entourage a non intervenire per non servirsi una contestazione che avrebbe avuto una risonanza, un eco internazionale. Così come l'eco internazionale l'ha avuta questo rifiuto da parte del Papa, un rifiuto che è stato motivato proprio perché ad attenderlo c'era una contestazione che non aveva fatto mistero, visto che c'era stata l'occupazione del rettorato, c'era stata l'occupazione dell'intera università, sia da parte degli studenti che da una parte del corpo docente. È naturale che una situazione del genere non possa passare inosservata. Il rifiuto del Papa, dettato anche dal buon senso, ha fatto sì che facesse il giro del mondo. Tutti i giornali, oggi dal Corriere della Sera a Stern, al New York Times, al Washington Post, al Der Spiegel, tutti i giornali italiani e straniere mondiali parlano di questo rifiuto del Papa di intervenire all'università, invitatissimo tra le altre cose dal rettorato dell'università della Sapienza per l'inizio dell'anno accademico. Voltaire diceva, e noi siamo d'accordo con Voltaire, che morirei purché oderei la vita, purché anche il mio peggio nemico possa esprimersi. E dire cose che io non penso, che non condivido, ma è giusto che il mio nemico possa parlare e possa esprimersi. Ebbene al Papa comunque bisognava dare anche una possibilità di poter parlare, non solo perché rappresenta dagli 800 al miliardo di cattolici nel mondo, ma perché comunque il dibattito sarebbe stato grandemente vivo, proprio perché ognuno poteva portare le proprie esperienze, la propria maturità e la propria convinzione su temi che riguardano l'aggregazione della famiglia o delle nuove famiglie. Questo ovviamente diniego del Papa, che è dovuto allo stracismo di una parte dei giovani e ovviamente anche della docenza, ci riporta indietro nel tempo. Non ha nulla a che fare con il 68 questo episodio, ma di certo è un episodio che ne innescherà degli altri, anche perché i giovani oggi vogliono avere voce in capitolo. Ma la voce in capitolo, credetemi, non è la Chiesa di questi tempi che è la frena, è la politica. La politica è che non crede nei giovani, che non vuole i giovani perché ostacolano ovviamente il perdurare di una cristallizzazione, di un mondo così vecchio e inveterato nei vizi, nei difetti e nella corruzione, che ha paura che i giovani possano scardinarne ancora la longevità. Un saluto da Alfredo Giuliano.